Musica Allarme sfratti alla Farnesiana lo lancia il parroco di Santa Franca Donno Berini chiediamo aiuto ai piacentini che possono contribuire dice sono 85 le famiglie a rischio Sigma e Troni firmata la cassa crisi aziendali 12 mesi per i dipendenti del supermercato di Caorso 24 per il negozio di elettronica di Piacenza saldi, commercianti insoddisfatti, terminate le svendite di fine stagione confesercenti lamenta un calo del 20% nell'abbigliamento low cost tengono le grandi firme, domenica lo sbaracco alcol e droga, 3200 casi nel 2013 sono gli accessi registrati al pronto soccorso per gli alcolici gli episodi sono raddoppiati nel giro di 5 anni 7 diffide per gli ultras del Piacenza i provvedimenti d'aspo sono stati notificati dalla questura in seguito alle proteste del 23 febbraio quando i tifosi entrarono negli spogliatoi dopo Piacenza-Caravaggio